Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono 4 km di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Sempre in FIPILI coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. In A1 coda tratti tra Firenze-Sud e il Bivio Calavariante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze-Sud in Cisareggello verso Roma. In A11 coda tra Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione Pisa. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie!